Il nostro atteggiamento produttivo è quello di produrre vini con una filosofia comune, ma ognuno con una sua personalità ben definita, in modo che ogni linea, in particolare ogni vino, evochi l'emozione che abbiamo pensato prima di produrre quel vino. In particolare qui abbiamo la nostra linea base, quella dedicata alla civiltà contadina, da cui riprendo il concetto di vino come prodotto da bere, prodotto bevanda, e quindi la linea dove c'è l'esasperazione della filosofia aziendale. I vini con un approccio abbastanza facile, ma vini che devono far scattare la seduzione, perché questi sono appunto i vini della seduzione. Quindi tutte le tecniche affinché il vino ti invogli a bere. Vini con un'acidità abbastanza moderata, vini quindi che fanno la malolattica, anche il bianco fa la malolattica. Vini che ricevono una microossigenazione, perché il vino finché ti invogli a bere, ti deve dare la sensazione di vino maturo, e quindi l'ossigeno, in questo senso, gioca un ruolo fondamentale. Di conseguenza, questi vini, prima di andare in bottiglia, vanno incontro ad un processo di microossigenazione. E poi altre tecniche, una fondamentale, secondo me, che riguarda i vini bianchi e rosati, perché ricordiamolo, ogni linea di vini è composta da un prebbiano, vino bianco, un cerasuolo, un vino rosato, e un rosso, un montepulciano d'abruzzo. E la scelta fondamentale, dicevo, è stata quella di riprendere una vecchia tecnica degli anni 70 per i bianchi e i rosati, cioè di dare ossigeno al mosto, appena si schiaccia l'uva, in modo da ossidare tutte le sostanze ossidabili prima della fermentazione. Così, durante la fermentazione alcolica, queste sostanze precipitano, e poi ci ritroviamo con un prodotto che, come in un contrappasso dantesco, non teme più l'ossigeno, ma anzi, più sta nel bicchiere, più prende ossigeno e più diventa buono. Nella retroetichetta del Tomlo scriviamo che la seduzione è lo spazio tra ciò che si mostra e ciò che si lascia immaginare e lentamente assaporare sorso dopo sorso. Il concetto è questo, che il vino ad ogni sorso ti fa scoprire qualcosa di nuovo, ma già ti fa pensare che al prossimo sorso non ti deluderà. I vini della civiltà contadina sono Soma, il Trebbiano, Mezzetto, il Cerasuolo e Tommolo, il Montepulciano. In pratica sono delle vecchie unità di misura agraria dove Soma è l'elemento base, il Mezzetto è un sesto di una Soma e il Tommolo è un terzo di una Soma. Grazie.